Di solito generalmente si pensa alla maturità subito l'immagine visiva che viene in mente è quella di un frutto cioè il frutto da acerbo fa il suo ingrossamento e poi alla fine viene la sua maturazione e quindi praticamente passa da un sapore magari più acerbo a un sapore più buono oppure possiamo pensare a quella di un uomo cioè lo stadio di bambino che diventa sempre più grande fino a diventare la statura di un uomo maturo questi esempi sarebbero intrinsecamente giusti ma sono mendaci di una grave lacuna cioè la focalizzazione sull'aspetto visivo cioè non riusciamo a focalizzare questo aspetto però dobbiamo anche andare più in profondità infatti noi tutti insieme comunque abbiamo già detto quello che io comunque volevo anche dire che noi quando pensiamo alla maturità pensiamo a questo aspetto esteriore ma dobbiamo ricordarci invece cosa dice la Bibbia la Bibbia in prima Corinzi 14 il prossimo slide dice fratelli non siate bambini quanto a ragionare siate pur bambini quanto a malizia ma quanto a ragionare siamo uomini compiuti in questo caso noi dobbiamo praticamente cambiare la nostra mentalità e diventare uomini donne spirituali secondo proprio l'approccio di prima Corinzi 14 e 20 14 e 20 perché questa è la nostra via che dobbiamo iniziare cioè noi dobbiamo iniziare un nuovo processo di ragionamento interiore e di dire a che punto sono a che punto devo diventare e come sto lavorando per diventare per avere quello scopo nella mia vita perché noi conosciamo spesso e volentieri almeno per quanto mi riguarda personalmente i passi siate come piccoli fanciulli oppure se uno vuole essere grande nel regno di Dio sia il servitore di tutti almeno a me personalmente poi non so voi mi ha causato un senso di dire ok io devo rimanere fanciullo a tutti i costi ma non è quella la situazione giusta che Dio vuole la fanciullezza che Dio vuole è quella espressa proprio in prima Corinzi 14 e 20 dove dice che noi bisogna essere puri cioè bisogna essere semplici nel ragionare ma vivere una vita di maturità spirituale di non essere fermi nella nostra immaturità nel nostro dire ok adesso aspetto cosa Dio mi dice ma invece protendere verso la via che ci conduce alla maturità spirituale a quell'uomo spirituale infatti noi dobbiamo entrare nella via dell'uomo spirituale dobbiamo lasciare la via dell'uomo carnale Paolo spiegava in maniera sistematica del fatto che lui diceva io non vi ho potuto insegnare le cose che volevo insegnare ma vi ho dovuto dare del latte vi ho dovuto dare qualcosa che non eravate ancora pronti questa è l'immaturità non è perbenismo, non è cattiveria, non è niente è solo immaturità cioè nel senso che noi non possiamo ancora ricevere tutta la verità di Dio ed entrare nella pienezza della verità di Dio e quindi prendiamo a prima Corinzi capitolo 2 versetto 6 tuttavia a quelli che tra voi che sono maturi esponiamo una sapienza però non una sapienza di questo mondo né il denominatore di questo mondo 2 e 6 i quali stanno per essere annientati ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria ma come scritto le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore di un uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello spirito perché lo spirito scruta ogni cosa anche la profondità di Dio infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è lui così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio or noi abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana ma insegnate dallo spirito adattando parole spirituali a cose spirituali ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché esse sono pazia per lui e non le può ricevere perché devono essere giudicate spiritualmente l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa e Dio stesso non è giudicato da nessuno infatti chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire or noi tutti abbiamo la mente di Cristo in più voglio leggere un altro passo Efesini capitolo 4 del 10 al 15 dice colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché si riempisse ogni cosa ed è lui ci è dato gli uni come apostoli gli altri come profeti gli altri come evangelisti gli altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi per l'opera del ministerio per l'adificazione del corpo di Cristo finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e alla piena conoscenza del figlio di Dio all'uomo allo stato d'uomini fatti all'altezza della perfetta statura di Cristo affinché non siamo più bambini 4, 10, 15 non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni evento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dall'errore ma che seguitando verità in carità noi cresciamo ogni cosa verso colui che è il capo cioè Cristo e quindi se leggiamo questi passi comprendiamo bene che cos'è la maturità quella soprattutto spirituale sono due pezzi una è quella che è ricevuta dallo spirito di Dio per comprendere le verità spirituali per comprendere la parte sovrannaturale di Dio e una è quella che è insegnata da profeti da evangelisti da dottori ognuno secondo il suo carisma affinché noi possiamo rimanere saldi nella parola di Dio e possiamo conoscere di più delle verità di Dio e non possiamo essere traviati dalle nostre mentalità dalla nostra falsa cultura perché noi continuiamo a ricercare la verità di Dio ma non dobbiamo nella nostra ricerca essere traviati dalle vie del diavolo ma dobbiamo ascoltare con loro che ci insegnano perché loro hanno comunque vissuto la nostra stessa vita e soprattutto dobbiamo imparare anche da quello che sto sperimentando anche dalla storia stessa della Chiesa quanto è importante conoscere il nostro passato per vivere al meglio il nostro futuro ed è proprio questo che abbiamo preso cosa sia adesso la maggiorità e cosa adesso possiamo parlare del cristianesimo moderno cosa significa cristianesimo moderno perché si parla di cristianesimo moderno si parla di cristianesimo moderno perché c'è stata una prima Chiesa la Chiesa del primo c'è stata una prima Chiesa e la prima Chiesa doveva avere l'apologetica l'apologetica cos'era? era lo studio a difesa della dottrina e maggiormente si doveva focalizzare su due principali problematiche la nascita dell'esistenza del cristianesimo e la distinzione fra le altre religioni mistiche queste due problematiche adesso in questo periodo non hanno un vero peso perché il cristianesimo è una una radice si confonde con i cattolici si confonde con i protestanti ma resta il fatto che è più radicata degli anni prima degli anni invece la vera Chiesa la prima Chiesa era quella delle sinagoghe era quella dei templi quindi le persone quando vedevano un vero cristiano loro pensavano o un israelita giudeo o uno che faceva religioni esoteriche un misticismo qualcosa di strano o addirittura a un sorversivo dell'attuale religione perché la religione romana di quei tempi era politeistica ed era quella di stato e l'imperatore era il re quindi chiunque a quel tempo predicava qualcosa di diverso da questa da questa dottrina benché comunque Roma ne sappiamo era sempre molto aperta qualunque porcata che volessero fare significava comunque manifestare una volontà sovversiva soprattutto perché noi dobbiamo pensare che i cristiani si radunavano a quel tempo di notte in una catacomba al buio in un posto chiuso e facevano qualcosa che nessuno sapeva ora noi diremo ISIS ultimamente diremo terroristi qualcosa che comunque non è al momento molto comprensibile però però questo è la differenza che dobbiamo percepire cioè quella è la chiesa dei primi tempi quindi loro avevano questa difficoltà dovevano entrare nell'essere riconosciuti dovevano entrare nella distinzione fra le altre religioni mistiche dovevano rientrare in questa nuova mentalità e cercare una propria identità che non era quella giudaica non era neanche quella cristiana e quindi entrare in questa nuova identità a quel periodo era veramente difficile e tante eresie sono nate perché ognuno cercava la sua personale verità ed è per questo che allora bisogna ricordarsi la nostra storia per non fare gli stessi errori e quindi parlando sempre delle religioni mistiche vi voglio fare una cosa divertente dicendovi secondo voi qual è il dio che è nato in una grotta d'oriente muore a 33 anni ascende al cielo per risorgere la vita eterna creando un culto che si diffonderà nella Roma imperiale secondo voi chi è? Gesù? chi mi dice che non è Gesù? la risposta è sbagliata è Mitra Mitra che praticamente era un culto praticamente paritetico a quello di Gesù almeno per quanto riguarda il movimento esoterico era era lo stesso pari livello tanto che nell'apologetica a un certo punto cercando di continuare a dimostrare che questo culto non era identico a quello dei cristiani cercando di dimostrare sul fatto che non c'era la stessa identità Celso ha dovuto dire questo è è un culto di Satana perché non aveva veramente più da che dire ha cercato in tutti i suoi modi di spiegare che non era non era non era giusto perché se voi vedete il culto di Mitra è praticamente identico addirittura sembra che questa divinità sia nata in una grotta nel giorno di Natale tipo nello stesso nel 25 dicembre quindi praticamente praticamente identico ed è una una cultura indoeuropea quindi comunque molto simile è stato proprio ripreso nel movimento in cui c'erano i cristiani allo stesso tempo quindi dobbiamo veramente capire quanto attualmente serve l'apologetica a quanto serve la difesa c'è la difesa della nostra fede e dice come potete vedere abbiamo bisogno ancora oggi dell'apologetica e non è uno stile del passato ma è una realtà tuttora presente lo studio e la difesa della nostra fede sarà la chiave che per il prossimo e futuro sarà molto importante perché io non lo dico a titolo a titolo solamente di insegnamento ma io ho percepito proprio questo nello spirito non è solo la maturità che noi dobbiamo avere ma noi dobbiamo in più dover lottare per la nostra fede perché saremo sempre accusati di qualche cosa saremo accusati più passa il tempo più saremo accusati di essere eretici di essere di non avere la giusta dottrina di essere xenofobi di essere razzisti di essere pazzi di essere qualunque cosa e noi dobbiamo entrare in questa nuova identità quindi le difficoltà presenti invece sono la modifica dei valori religiosi io ultimamente parlo con le persone le persone mi dicono che l'islam è una religione bellissima io sento tantissime persone dire se io dovesse scegliere una religione scegliere l'islam guarda è sconvolgente come come le persone vedono nell'insegnamento della pace dell'amore generico senza andare in profondità ma loro non lo sanno e comunque tantissime persone stanno entrando nell'islam tantissime persone e se non entrano nell'islam entrano in un desiderio di non voler conoscere Dio cioè questo o non conoscono Dio o comunque si fanno veramente lasciar traviare da ogni evento di dottrina in più abbiamo anche una mancanza di identità profonda perché la modifica dei valori religiosi come il cambio dei ruoli cioè un'anarchia interiore una distruzione viene spesso volentieri da una mancanza di identità cioè le persone non hanno non i valori di un tempo che è una frase fatta loro non sanno non vogliono e non sanno chi sono realmente cioè non è io no non c'è più tanto tempo fa la gente predicava il cristianesimo almeno perché dice se tu credi in Dio allora puoi essere felice ma la felicità ormai non è più un valore importante l'unica verità è come posso io essere una persona cioè l'identità persona proprio cioè io chi sono realmente ma la mia totalità essere una persona vera essere una persona di qualità non lasciarmi non lasciarmi distruggere ma lasciare costruire nella mia vita quindi questa mancanza di identità porta a sì che le persone si buttano in qualunque desiderio possibile perché hanno distrutto la storia pian piano ha distrutto drasticamente prima la moralità poi la sessualità poi l'identità dei genitori poi l'identità dei figli alla fine ci rimane più niente solo che quello che io dico sempre io ho sempre apprezzato il femminismo nel senso nella sua nella sua teoricità essere che donne e uomini siano uguali è giusto ed è anche quasi biblico perché comunque la costola era alla stessa livello costruito alla stessa livello significa una stessa unione e io sono d'accordo su questo ma che il femminismo abbia alla fine portato o anche i moti liberali hanno portato alla fine alla distruzione di tutto ok la famiglia i genitori erano cattivi quelli sono schifosi tutto non va bene tutto puzza non c'è nulla di buono però poi non è stato detto vabbè ok abbiamo distrutto tutto adesso vogliamo iniziare a costruire qualche cosa o vogliamo continuare a distruggere nessuno si è messo nelle mani dicendo ok adesso è il tempo di pensare a cosa c'è di importante cosa sono cosa è la cosa concreta e tutti hanno hanno pian piano lasciato il decorre del proprio destino alla alla scatafascio e cosa succede succede proprio quello che è successo in in breve Paolo ai Romani dice Romani 1.22 fino al 32 benché si dichiarino sapienti sono diventati stolti e hanno mutato la gloria di Dio del Dio incorruttibile in immagini assimili a quelle di uomo corruttibile di uccelli di quadrupidi di rettili hanno preso qualcosa un Dio un Dio non è importante se era il calcio non era importante se erano i videogiochi non era importante se era il sesso non è importante l'importante è che questo idolo che tutti si è messo nella tua vita ti appaghi la tua felicità personale è più importante di qualunque altro e per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore in modo da disonorare fra di loro i corpi essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno Amen perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura similmente anche gli uomini lasciando il rapporto naturale con la donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini atti infami ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento siccome non si sono curati di conoscere Dio Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa sicché facessero ciò che è sconveniente ricolmi di ogni ingiustizia malvagità cupidigia malizia pieni di invidia di omicidio di contesa di frodi di malignità calognatori maldicenti abbonimenevoli a Dio insolenti superbi vanaglorosi ingegnosi dei mali ribelli ai genitori insensati sleali senza affetti naturali spietati essi pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tale cosa non sono degni di morte non soltanto le fanno ma anche approvano chi le commette io sono contrario al fatto che è giusto che le persone diano un'approvazione e mi sono reso conto nella mia immaturità di quanto io tendo ad approvare per il buonismo per il perbenismo per quello che è la giustizia umana la giustizia naturale quello che non comprende gli insegnamenti di Dio a lasciare che le cose vabbè se lo fa significa che è un suo problema c'è qualcosa che ancora deve finire c'è qualcosa che deve ancora cambiare c'è ancora qualcosa ci deve essere Dio e bisogna pregare bisogna digiunare affinché Dio scenda su questa terra questa è l'unica bisogna che le persone maturino il carattere di Dio nella loro vita la mentalità del cristiano perché tutti si dichiarano cristiani ma nessuno di loro ha ancora percepito cos'è la verità la vera maturità in Cristo e quindi come possiamo vedere l'unico modo per poter combattere questa era di perversione è di mantenersi vicino a Dio e vivere la maturità e più in specifico cosa? la maturità nella conoscenza come ho detto sapere l'antico sapere il nuovo studiare non perdersi mai d'animo non c'è nessuno che non è che è arrivato ma lo studiare il conoscere non ci serve a noi quanto a gloria ma serve agli altri per dimostrare il fatto che noi abbiamo a cuore queste cose cioè noi non studiamo la parola di Dio affinché possiamo dire possiamo tenere tesi lauree noi studiamo la parola di Dio studiamo la nostra storia affinché quando le persone ci parlano noi possiamo dire io lo conosco quello che tu mi dici perché spesso e volentieri io mi sono trovato in conversazioni dove ho dovuto dire questo mi spiace non lo so e non mi è piaciuto non mi è piaciuto perché 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 ho pepe grizia per tempo per qualunque situazione ho dovuto dire ci vediamo ci vediamo la prossima volta ma ma se il cammino è costante noi dovremmo poter già rispondere a queste domande con tranquillità senza alcuna fatica e quindi dobbiamo essere informati per tenere banco alle presunte accuse che ci rivolgeranno perché se ci dicono di essere razzisti noi dobbiamo spiegare perché non lo siamo se ci dicono di essere xenofobi dobbiamo spiegare perché non lo siamo noi gli diciamo io spesso volentieri dico io posso essere tu puoi dirmi quello che ti pare ma io non posso essere d'accordo e non è e dice guarda la mia non è cattiveria io sono tranquillo mentre te lo dico sono tranquillissimo mentre ti dico che secondo me tu stai sbagliando ma la verità è questa la verità è una quello che io quando parlavo con qualcuno diceva tu parli attraverso la Bibbia la Bibbia è una verità oggettiva quindi o la prendi o non la prendi io all'inizio ho detto ma mi sembrava strano però ufficialmente è così nel senso se noi prendiamo un testo che è stato scritto milioni di anni e quello deve essere radicato e quello deve essere il nostro fondamento e noi la nostra storia la viviamo su quella Libbia è una verità oggettiva cioè oggettivamente o è così o non è così ma non è che ci possiamo fare l'unica cosa in più che ci può dare la maturità e la conoscenza è dire sì ok che è oggettiva però c'è stato un percorso c'è stato c'è stato uno studio le persone hanno vissuto questa vita c'è stato qualcuno prima di te che ha pensato ha pensato nel bene e nel male di fare di fare un cambiamento e quindi aspetta aspetta e quindi noi pensiamo a io voglio prendere un passo degli atti dice atti capitolo 4 dice mentre essi parlavano al popolo giunsero i sacerdoti il capitano del tempio e i saducei cioè giunsero i sacerdoti quando parlavano nel tempio Pietro e Paolo arrivarono i sacerdoti quindi già i sacerdoti li volevano già togliere la pelle dal corpo poi arrivava il capitano delle guardie del tempio eppure arrivarono tutti i saducei indignati perché essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti allora misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente perché era già sera ma molti di coloro che avevano dito la parola credettero e il numero degli uomini salì circa cinquemila il giorno seguente i loro capi con gli anziani e gli scrivi si riunirono a Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote Caifa Giovanni Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti e fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni domandarono con quale potere o nome di chi avete fatto questo allora Pietro pieno di spirito santo disse capi del popolo e anziani se oggi esaminate se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come questo uomo è stato guarito sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo in Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio lo ha risuscitato dai morti e per la virtù che questo uomo compare guarito in presenza vostra egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare in nessun altro è la salvezza perché non vi è non vi è sotto il cielo e nessun altro nome che non sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati essi vista la franchezza di Pietro e di Giovanni si meravigliarono avendo capito che erano popolani senza istruzione riconoscevano che erano stati con Gesù vedendo l'uomo che era stato guarito li presero li prese li prese in te ma io ho la versione troppo vecchia con loro non potevano dire niente in contrario ma dopo aver ordinato loro di uscire dal sinedrio si consultarono gli uni e gli altri dicendo che faremo a questi uomini che un evidente miracolo sia stato fatto per mezzo di loro è noto a tutti gli abitanti di Giuselemme e noi non possiamo negarlo ma affinché ciò si diffonda maggiormente tra i popoli ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui e avendoli chiamati imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù ma Pietro e Giovanni dissero loro giudicate voi se giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto dite ed essi minacciatele di nuovo li lasciarono andare non trovarono assolutamente come poterli punire a causa del popolo perché tutti glorificavano Dio per quello che era accaduto infatti l'uomo in cui questo miracolo della guarigione è stato compiuto aveva più di 40 anni noi vediamo che cioè lo spirito si infiamma detto Pietro che comunque era un pescatore e lui riesce nella sua conoscenza nella maturità di aver passato tre anni con Gesù quindi pensa che un po' di cose gliela insegnate nella maturità della conoscenza lui ha potuto rispondere ai sacerdoti non è stato non è stato impreparato più volte si vede che Pietro riesce a rispondere alle accuse che gli mostrano così come ognuno dei loro gli apostoli ogni volta loro non venivano giudicati da un tribunale e loro dovevano rispondere secondo secondo la loro la loro fede secondo la loro conoscenza quindi la maturità della nostra conoscenza ci permette di rispondere al meglio secondo noi dobbiamo avere la maturità nello stile di vita la nostra conoscenza è vana se non abbiamo uno stile di vita identico alla nostra conoscenza non dobbiamo odiare ma amare vivere nella sopportazione lodando ogni cosa lodando Dio per ogni cosa e infatti cosa successe dopo rimessi quindi in libertà venero ai loro e riferendo tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette udito ciò essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero signore tu sei colui che ha fatto il cielo alla terra il mare e tutte le cose che sono in esse colui che è mediante lo spirito ha detto per bocca del tuo servo Davide nostro padre perché questo tumulto fra le nazioni e i popoli in merito hanno cose vane i re della terra si sono sollevati i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo proprio in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono radunati Erode e Ponzio Pilate insieme con le azioni con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prostabilito che avvenissero adesso il Signore considera le loro minacce e concede ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza stendendo la tua mano per guarire perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù noi dobbiamo avere uno stile di vita che dopo aver dimostrato la fierezza del nostro Vangelo dobbiamo dimostrarlo nella vita pratica dobbiamo pregare per le persone dobbiamo andare dobbiamo manifestare il regno di Dio e quindi non è solo la conoscenza che ne percepisce ma dobbiamo lodare Dio come facciamo negli apostoli e continuare a pregare affinché il Vangelo non si fermi perché ci deve essere una maturità nello stile di vita ci deve essere una ci deve essere la verità di quello che tu dici e quello che succede è che io parlo io almeno al lavoro da me che sto parlando molto del Signore io preferisco essere onesto e dire guarda piuttosto ti dico sto facendo questi dieci peccati già lo so che le sto sbagliando io ma almeno io ho la maturità nel poter dire sto crescendo cioè se tu sei onesto con le persone la tua onestà alla fine paga ma non solo la maturità paga ma paga paga tutto perché alla fine non puoi essere una persona non puoi dimostrare non puoi essere un venditore che vende situazioni vende di più di quello che è la realtà dei fatti se tu ti vendi di più e poi non riesci a vedere non riesci a far manifestare il regno di Dio veritiero che è nel tuo cuore alla fine ti ritrovi che non non fai niente perché Dio brucia intorno a te quello che tu stai facendo perché lui vuole che tu sia che loro vedano un vero Dio onesto un vero Dio potente noi dobbiamo io voglio veramente incoraggiare tutti voi a continuare a pregare per colore che avete nel vostro cuore di prendere tre persone se non ce l'avete e di iniziare a vivere una maturità nello stile di vita perché perché il conoscere non basta cioè noi leggiamo tanto studiamo tanto preghiamo tanto ma la maturità il nostro stile di vita è anche andare andare oltre non essere fermi non essere non essere tiepidi non essere sì o no faccio questo ma essere maturi totalmente e ci vuole un'altra maturità che è quella nello spirito quella che facevano gli apostoli perché noi bisogna manifestare la potenza di Dio quante volte il mio desiderio di prendere adesso ti guarisco ho pregato tante volte e Dio mi ha risposto alcune volte sì alcune volte no ma sono sempre fiducioso che la maturità spirituale viene nella pratica più preghi per le persone più le guarigioni avvengono se non preghi per le persone per la guarigione per le persone se non hai il coraggio di ok vieni qua preghiamo ho sbagliato oh ho sbagliato prossima persona prego per te andiamo avanti non fermiamoci il nostro peggiore nemico non è la paura ma è l'inedia cioè il non far niente il non essere non essere pronti non essere maturi perché è nell'immaturità un bambino che non ha il suo gioco che non ha il suo gioco e non riesce a avere il suo gioco si stufa e smette invece noi dobbiamo essere maturi nello spirito e quindi leggiamo che dopo che ebbero pregato il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello spirito santo e annunciavano la parola di dio con franchezza fire la maturità e soprattutto ultimo pezzo la maturità nell'amore tutto questo deve essere fatto non pensando allo storgoglio non pensando alla nostra quanto quanto allora queste sono cose che a me succedono ma penso che succedono a tutti voi quanto per me è stato difficile vivere l'ultimo pezzo io lo volevo mettere come prima ma siccome Atti comunque lo trasforma in questo in questo in questi quattro punti io dico per quanto per quanto almeno riguarda vivere nell'amore è per me la sfida più difficile perché il mio desiderio almeno personale è vivere nell'orgoglio ma non perché voglio vivere nell'orgoglio ma perché il mio desiderio è che i risultati avvengano avvengano subito secondo i miei metodi secondo i miei canoni e quello non è amore perché l'amore di Dio è un amore agapeo che che dà senza chiedere nulla in cambio quindi la vera maturità nell'amore è che noi ci dobbiamo dobbiamo lavorare nel regno di Dio secondo le leggi di Dio non per avere qualcosa in cambio ma per far sì che il regno di Dio venga cioè noi non dobbiamo pensare al fatto che ok ho parlato di Dio a questo qui allora martedì facciamo la cellula giovedì facciamo quello poi guarisce poi guarisce tutta la sua famiglia poi poi lui mi dà mille euro poi poi diventa un ministerioso per danno internazionale e così via cioè l'orgoglio che non è così dovrebbe essere utilizzato solo per una cosa se dovessimo usare detto in maniera giusta come come l'odio verso le cose del mondo come dico l'orgoglio l'orgoglio nostro dovrebbe essere io sono fiero di essere cristiano io sono fiero di essere figlio di Dio questo è il nostro unico vero orgoglio la nostra maturità la nostra maturità nello spirito ma soprattutto non amore io sono orgoglioso io quando vado davanti alla personale allora sì cerco di essere un po' pacato ma io se uno mi chiede ma chissà io gli dico sono cristiano io non me ne frega niente che di quello io ho il mio orgoglio il mio orgoglio personale sono tanti pensano tanti pensano che la che loro che ne so sono una minoranza in verità ormai la vera unica minoranza che esiste sono i cristiani piano piano saremo noi la minoranza non saranno gli altri saremo noi la vera unica minoranza e che non saremo non saremo conformi alle leggi del mondo non saremo conformi a nessuna idea saremo noi la minoranza quindi aspettatevi che ci sarà da divertirsi e soprattutto dobbiamo essere un sol cuore quindi la maturità nell'amore ma nel cuore nell'unità del nostro spirito e cosa diceva in atti sempre così la moltitudine di quelli che avevano creduto era di un sol cuore ed un'anima sola non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva ma in tutto era in comune tra di loro un'anima sola un'anima sola un'anima sola grazie a tutti